Presidente Alberani, allora è soddisfatto per questo importante e prestigioso riconoscimento che è stato conferito al suo club, con quali motivazioni? Le motivazioni possono essere tante, la commissione manifestazioni dell'ASI sicuramente ne ha individuata non solo una ed è arrivata alla conclusione di conferire all'evento Lingua 80 anni dopo il premio alla manovella d'oro. Quello che io posso dire è la grande soddisfazione invece nostra del club oltre all'ingraziamento all'ASI per l'attenzione che ha rivolto a tutto questo difficile e gravoso impegno che c'è stato per organizzare l'evento, devo dire che all'interno la soddisfazione è di tutti i consiglieri, collaboratori, tutte le persone che hanno lavorato, che non hanno lavorato ma che sono state sempre tutte molto vicine al grande impegno, al grande sforzo che c'è stato. La cosa più importante è forse il valore aggiunto che è opportuno cogliere su questo premio e che la Topolino è nata a Lingotto, la fabbrica di Lingotto a Torino, abbiamo portato 260 Topolino assieme ai colleghi del club Topolino Fiat Torino qui a Lingotto nel mese di giugno del 2016 e la premiazione della manovella d'oro è stata fatta oggi nello stabilimento, quello che era lo stabilimento del Lingotto. Credo che veramente si sia chiuso, se è una coincidenza, non lo so se è una coincidenza ma è veramente una cosa unica e forse irripetibile. Laura Enti Garavoglia l'ha ricordato il presidente poc'anzi e si chiude il cerchio quest'oggi. La Topolino è nata qua a Lingotto, gli 80 anni di festeggiamenti che si sono celebrati per omaggiarla, per festeggiarla. Hanno avuto come momento clou la visita alla pista del Lingotto e quest'oggi un'importante onorificenza, la manovella d'oro. Sì Paola dice bene, la Topolino è nata qui, è nata ormai quasi 81 anni or sono, ma l'anno scorso, proprio qui nel mese di febbraio, stavamo lanciando il grande evento, Lingotto 80 anni dopo. E siamo qui, è passato un anno, 2017 e oggi è una giornata di festa, di grande festa, perché abbiamo ricevuto questa preziosissima riconoscenza da parte dell'Asi che è la manovella d'oro, tra le migliori organizzazioni degli eventi realizzati dai club federati. Ma non è finita qua, perché la manovella serviva per avviare il motore e allora siamo qui per dare di nuovo un colpo di manovella e stavolta proiettati ai 40 anni del Topolino Autoclub Italia. Ci siamo lasciati alle spalle gli 80 anni delle Topolino e siamo pienamente inserite nei 40 anni del club Topolino Autoclub Italia. Seguitici ancora, grazie e la festa continua. Topolino Autoclub Italia.